Da qualche parte nelle Black Mountains del Galles c'è una cultura improbabile. I narcisi, che vengono coltivati ad altitudini elevate, hanno un potere segreto. Producono un composto medico chiave delle pillole per combattere l'Alzheimer. Ma non è tutto. Studi recenti rivelano un altro sorprendente beneficio. Le prime prove dimostrano che i narcisi di alta quota producono infatti un estratto che, se somministrato alle mucche, ha la capacità unica di ridurre le emissioni di metano. La sfida è far crescere queste colture floreali in modo costante sulle cime delle montagne. Quando abbiamo provato di creare daffodili qui, tutte le pratiche tradizionali della industria daffodil da decenni non funzionavano e non applicavano. In the end, we had to throw out the rule book and completely reinvent the whole process from start to finish. The daffodil is synonymous with Wales. It's the national flower of the country. But the last place you'd expect it to be grown here is the Black Mountains. The reason it is, although it's challenging, is because these conditions are the perfect conditions to produce the crucial compound when it comes to reducing methane. It became apparent very quickly that daffodils are packed full of very powerful bioactive compounds. Le mucche e gli altri animali d'allevamento contribuiscono a circa il 14% delle emissioni climatiche causate dall'uomo. Gli scienziati sperano che, oltre a ridurre le emissioni, l'estratto di narciso possa rendere più efficiente il sistema digestivo degli animali. Il governo britannico sostiene ora una sperimentazione che, in caso di successo, potrebbe avere profonde implicazioni. It's quite an unreal situation. In front of us now, the potential it could make to change the world on a number of levels. It's incredibly exciting and very scary. Anche se non è la soluzione al cambiamento climatico, questa sperimentazione, qualora avesse successo, ha il potenziale per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire a rallentare l'aumento delle temperature globali. Grazie a tutti.